Sì, intanto grazie per l'invito, ovviamente mi fa piacere parlare in questo contesto, anche perché mi viene, permettetemi un flash, insomma, che qualcuno forse ricorderà, parlando di inceneritori, insomma, il primo inceneritore chiuso nel Veneto è quello di Schiavonia, 1981, quando appunto la popolazione del quartiere, dopo l'ennesima fuoriuscita, decide di fare il blocco all'arrivo dei rifiuti, un mese di blocco, giorno e notte, che porta alla chiusura dell'impianto, 1981, lì in coda partono tutte le lotte che poi portano alla chiusura dell'inceneritore di Saccafisola, all'inceneritore di Mirano, ma parte anche e cerca di aggredire l'inceneritore di Camin, per capirci. Però in parallelo parte anche quella grossa battaglia all'inizio, che era sulla raccolta differenziata, sulla riduzione del rifiuto, eccetera, quindi le lotte che sono diventate comunque motore anche di una indicazione diversa, ed è un po' quello, insomma no, che credo si stia tentando, stiamo tentando in questo periodo, dove da una parte abbiamo una lotta contro la costruzione della quarta linea, la lotta contro la costruzione del nuovo inceneritore di Fusina, d'altro lato però appunto siccome arriviamo da un territorio ricco purtroppo di contraddizioni, noi non ci consideriamo nella bassa padovana un territorio particolare, perché è uno dei tanti spaccati di questo Veneto, però mi riallaccio dicendo che appunto lì c'è anche questa battaglia contro l'ampliamento della discarica tattica regionale, la discarica più grande del Veneto, è stato approvato un progetto di ampliamento, un ulteriore milione di metri cubi di rifiuti che arriveranno in una discarica che già ha ospitato appunto i fanghi provenienti, i rifiuti provenienti dalla Miteni di Trissino, e pesca ed è dentro un'area ideograficamente importante vicinissima alle sponde dell'Adise da cui attingono decine di acquedotti e quindi è una battaglia importantissima, deve essere affiancata e non in contraddizione appunto con la battaglia per la chiusura degli inceneritori perché noi nel Veneto abbiamo tutte le condizioni per avviare quel percorso rifiuti zero di cui tanto parliamo ma che effettivamente potrebbe essere praticabile, in realtà come diceva anche Mattia la lobby che gestisce il ciclo dei rifiuti oggi è in grado di riproporre inceneritori, riproporre ampliamenti e costruzioni di nuove discariche, quindi sono battaglie importantissime e su questo credo la capacità poi di far rete e di costruire e di mettere insieme non solo le competenze ma anche le iniziative e le mobilitazioni possono favorire anche la riuscita di questo percorso che affianca ad una lotta di opposizione anche alla proposta di un percorso. Dicevo che appunto è un territorio dove non ci mancano le contraddizioni perché appunto siamo in parte anche già zona rossa per quanto riguarda i FAS però scendendo un po' diciamo dentro quest'area territoriale abbiamo un impianto come quello della SESA che tratta milioni di rifiuti, tonnellate di rifiuti l'anno provenienti da ogni parte d'Italia, un percorso che potrebbe essere virtuoso perché tratta il rifiuto umido, il fatto è che purtroppo il quantitativo che viene trattato è un quantitativo spropositato perché arrivano rifiuti da Roma, da Salerno e da qualsiasi altra parte del Veneto e d'Italia e questo composto poi viene riversato in maniera, in qualità e in quantità sicuramente critiche all'interno del territorio e sta provocando una contraddizione anche sulla questione della qualità dell'acqua. Tornando alla questione di cementeria in realtà purtroppo non è che è una battaglia nuova, è una battaglia anche questa, il comitato è nato esattamente 25 anni fa, i cementifici esistono dagli anni 50 però 25 anni fa per la prima volta si è posto il problema dell'impatto che questi impianti producono in termini di emissione, io adesso ve la semplifico perché non voglio tediarvi però l'emissione degli inquinanti di un cementificio sono dieci volte quelle di un inceneritore, questo per dirvi anche la contraddizione ambientale e anche la grande tensione che si è creata in un territorio perché da una parte il cementificio è comunque un impianto dove ci sono persone, operai, occupati, c'è un ciclo economico che permea anche il tessuto sociale, dall'altra c'è un'esigenza ambientale altrettanto valida, altrettanto importante e quindi è un terreno insomma che ha portato sia per la scelta economica sia per le scelte diciamo così ambientali anche per la forte opposizione che abbiamo creato alla chiusura di due impianti, c'è questo terzo impianto attorno al quale i rilievi che abbiamo fatto anche un'analisi proprio promossa direttamente da noi sulle carni animali ha prodotto questo risultato, il terreno è permeato di diossina e di PCB, la carne della gallina analizzata era carica di diossina e PCB ed è dichiarata incommestibile, questo per dire la pericolosità di un plesso scolastico che è sotto a 600 metri dalle emissioni di questo camino e quindi anche la grande tensione sociale, la grande contrapposizione, noi l'abbiamo definito una piccola taranto perché lo è effettivamente, la contraddizione è la stessa e la dinamica è la stessa. Chiudo dicendo cosa, questa battaglia in piedi è attiva però anche voglio chiudere con una nota anche positiva, voglio dire noi abbiamo fatto una grandissima mobilitazione in difesa del parco regionale dei Colli Ugani perché appunto alludiamo anche a un modello di sviluppo diverso, alludiamo ad un uso del territorio diverso da quello che viene prospettato, 50 anni fa la legge che chiudeva l'escavazione nell'area dei Colli Ugani e adesso mobilitazioni per la difesa del parco e dagli attacchi e la restrizione all'uso della caccia eccetera. Dicevo le note positive sono quelle che portano al fatto che è iniziata la bonifica della CNC, una fabbrica dismessa, un capannone dismesso e riempito di rifiuti, 50.000 tonnellate di rifiuti speciali che erano lì da 15 anni, la mobilitazione ha prodotto il fatto che si va verso la bonifica diciamo di questo impianto e poi notizie appunto di questo mese, la vittoria che abbiamo avuto sulla mobilitazione contro la costruzione del centro commerciale a due carrare, proprio di fronte al castello del Cataio, una delle emergenze architettoniche più belle dei Colli Ugani, un consumo di suolo incredibile, una cementificazione assolutamente ingestibile dal punto di vista sia paesaggistico che la mobilitazione proprio fatta all'interno del territorio che ha saldato realtà completamente diverse, ha messo insieme i comitati ambientalisti con la rete del piccolo commercio, con la rete degli agricoltori, con la cittadinanza stessa, ha fatto sì che si arrivi proprio fresca a questa sentenza del Consiglio di Stato che considera il vincolo posto dalla soprintendenza dopo le mobilitazioni che abbiamo fatto come un vincolo importante che determina per tutti un fatto assolutamente positivo, dove c'è un'emergenza architettonica importante, va salvaguardato il paesaggio, va salvaguardato l'ambiente, va salvaguardato il territorio e non valgono i diritti acquisiti e quindi questo è un segnale positivo che diamo a tutti voi. Grazie ancora. Grazie a tutti.